Allo Stella Stadium si affrontano Polisportiva Stelle e Reno. I padroni di casa vengono dal pesante KO esterno in casa del Pietracuta, mentre il Reno dalla Cinquinesbella rifilata al De Ducaribelle. L'umore è alle stelle. La gara è affidata a Cudrete di Imola, coadiuvato dagli assistenti della sezione di Rimini, Tonti e Pili. Si affrontano due squadre che sono state tra le sorprese del giro d'andata. Il Reno contro le Riminesi, impegnati in questo giro, ci ha preso gusto. Le vittorie esterne in casa del Morciano e Misano stanno lì a dimostrarlo. La squadra di ragazzini, usando il cognome del proprio tecnico, è composta da ragazzini temibili. La Stella in maglia bianca si fa vedere in avanti da subito, da rimessa laterale, palla indirizzata sul piede di Greco, che segue una finta per poi concludere a lato. Il Reno rischia grosso a 14esimo, quando dalla destra Gamberini mette al centro. Gabellini spaccata anticipa l'avversario, ma trova Stella ben posizionato. Il Reno si vede con Acquavita. Il terzino in fase offensiva e segue l'assist per buona voglia, che sulla propria strada trova Bertolitti per respingere la propria conclusione. Il proprio Acquavita, al tredotteggio del primo tempo, deve lasciare il campo. Il numero 3 cad a terra malamente, avvertendo un forte dolore alla schiena. Al suo posto entrerà Cardona. Entriamo nella zona bollente del match. Da questo corner, Gabellini sale in cielo, vedendoli spingere il proprio colpo di testa dalla difesa avversaria. E qui nasce l'azione del gol del Reno. Scoglio, notate bene lui, si trova ora in fase difensiva. Il numero 7 viene stoppato. La Stella arriva al tiro, che viene nuovamente murato. Con il Reno che parte in contropiede. Acquanzo ruba palla. Caon lo segue, andando via l'azzarito di forza. Allo stesso numero 9 rende il pallone ricevuto dal compagno. E Macunzo, incerto, favorisce la rispinta temporanea della difesa della Stella, che involontariamente mette Bertolitti nelle condizioni di servire Scoglio, che davanti a Gamberini trova l'1-0, che risulterà decisivo ai fini del risultato. Esplode a questo punto la tifoseria del Reno, molto calda e accesa, che festeggia nei migliori dei modi, quanto fatto vedere in campo dai propri ragazzi. Ma se di momento caldo pallavamo, beh, quello che succederà dopo diverrà davvero bollente. Buonavoglia perde palla malamente a centrocampo nel tentativo di recuperare la sfera e segue un'entrataccia su Gabellini, scatenando l'ira in panchina del tecnico Boldrini, che non le manda da certo a dire. Nasce così un parapiglia incredibile, dove si inserisce anche So, che in un duello verbale proprio con il tecnico di casa, paga la vicinanza del direttore di gara che lo espelle. E poco dopo a fare le spese sarà anche il vice di Boldrini, Amadori. Anime accesi a non finire. Per ultimo viene espulso Buonavoglia, che in verità doveva essere il primo. A fine primo tempo il direttore di gara farà fatica ad entrare negli spogliatoi. Gli animi si accendono ulteriormente in tribuna, ma evitiamo di raccontare quanto visto. Ci soffermiamo solo e esclusivamente al racconto del campo. Nella ripresa parte forte la stella, con l'uomo in più, prova a schiacciare il reno. Tani, migliore dei suoi, apre per Gabellini, ma la conclusione del numero 11 è da dimenticare, inoltre in posizione di offside. Lo stesso Tani ci prova dalla distanza chiamando la presa a stella. Al tredicesimo azione copia in colla del primo tempo, Verdinelli cross al centro, in spaccata Bellettini deposita la sfera tra i guantoni di stella, toccando anche l'estremo ospite sul quale piomberanno successivamente altri due giocatori. È la volta poco dopo di Andrea Gamberini, altra conclusione da fuori aria, bloccata senza problemi dall'ottimo stella. Il reno si difende bene, costringendo la stella all'ennesimo tiro da fuori aria. È la volta di Greco, stella risponde presente. Dalla Bandierina finalmente il primo spirale è dentro l'area piccola, ma il neo è entrato a Tomassoni, spreca così l'occasione del pareggio. Altro pericolo per il reno, sempre dalla Bandierini, il palone giunge a Berlicchi che scheggia la traversa. A novantesimo per doppia munizione viene allontanato anzitempo per la stella il centrocampista Andrea Gamberini. Il tio dalla Bandierina a questo punto diventa la specialità di casa, ma questa volta con Francesco Gamberini addirittura salito in area avversaria, il reno ringrazia, ma non ne approfitta. Bandini alza a campanile, favorendo la sgaloppata di Bottini, che attaccante non è, mostrando per l'appunto piedi da difensore qual è. E mentre la palla scorre lentamente verso la porta avversaria, i tifosi posti davanti alla nostra telecamera accompagnano con lo sguardo quel pallone per assistere alla finale che porterà alla gioia o all'amarezza. Si conclude qui con questa occasione una partita che riserva 4 espulsi, una direzione arbitrale. Cerchiamo per i pignoli di dare un giudizio, eseguendo una semplice valutazione, è da 4 e mezza. E questa volta non si offenda davvero nessuno, mentre in tribuna, Sov, espulso nel primo tempo, si rasserena finalmente, mangiando patatine e parlando con gli amici. Si godrà anche lui il successo esterno dei compagni, possibilmente qualcuno, dato che è buio, gli dica di togliere gli occhiali da sole. Con simpatia, Daniele Emanuelli.